Continua a diminuire in Sicilia in linea con la tendenza nazionale il numero di nuovi casi di positività al covid-19. Nella settimana tra il 12 e il 18 giugno le persone risultate positive sono state 454 con un calo del 21,45% rispetto alla settimana precedente. L'incidenza a livello regionale è stata di 9 casi ogni 100.000 abitanti. Questo il dato pubblicato nel bollettino diffuso dell'assessorato regionale della salute. Il maggior tasso di nuovi positivi si è registrato nelle province di Palermo e di Messina. Le fasce di età più a rischio sono quelle tra i 59 e gli 89 anni. Le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione e più della metà dei pazienti ricoverati risulta non vaccinata. Per quanto concerne la vaccinazione i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono il 22,16% del target regionale mentre sono il 19,05% quelli che hanno completato il ciclo primario. Fra gli over 12 i vaccinati con almeno una dose sono il 90,91%. Quelli che hanno completato il ciclo primario sono l'89,52% mentre il 9,09% rimane ancora da vaccinare. Sono il 71,22% degli aventi diritto e vaccinati con dose aggiuntiva booster mentre sono 1.120.983 residenti in Sicilia che non hanno effettuato la terza dose di vaccino. Dal 13 luglio del 2022 sono state effettuate complessivamente per i residenti in Sicilia 244.006 somministrazioni di quarta dose mentre le quinte dosi somministrate risultano in totale 10.716. Dati che sono in linea con l'andamento nazionale dove l'incidenza di nuovi casi identificati e segnalati con infezione da coronavirus in Italia è lieve diminuzione in quasi tutte le regioni italiane. Infatti è complessivamente molto basso l'impatto sugli ospedali con un tasso di occupazione dei posti letto in diminuzione sia nelle aree mediche che nella terapia intensiva.